Anche oggi con il laboratorio di cucina voleremo in Asia, in particolare sulle cime nevate dell'Himalaya e con quale modo se non con dei ghiaccioli appuntiti e freschi. Io sono Alice, lei è Gaia, la nostra cuota e lei è Aurora, il nostro giudice che a fine video giudicherà i nostri ghiaccioli. Cosa prepariamo oggi di buono Gaia? Oggi prepariamo dei ghiaccioli con la frutta, noi useremo dei ribes e dei mirtili dell'orto della zona, ma voi potete usare banane, pesche, lamponi, albicocco, quello che vi piace di più. Inoltre ci servirà del soffo di limone, dell'acqua e dello zucchero e degli stampini, se non avete questi potete usare anche dei bicchiere di plastica. Bene, allora incominciamo. Ora uniamo un po' di acqua laterale con del succo di limone, quante preferite. Poi dello zucchero quando basta. E ora mischiamo fino a far sciogliere il zucchero. Dopo che lo zucchero si è sciolto, possiamo riuscire i nostri stampini con la frutta e poi con un altro strutto di limone. La quantità di questi ingredienti va dalla dimensione dei nostri stampini e dai vostri gusti. La quantità di questi ingredienti va dalla dimensione dei nostri stampini e dai vostri stampini e dai vostri stampini e dai vostri stampini. Ecco i nostri monti di Himalaya e ora arriva Aurora, il nostro giudice, e li assaggerà. Buonissimo! Ringraziamo la nostra regista Martina e ci vediamo venerdì prossimo con un altro appuntamento in cucina. Ciao! Ciao!